kk attenzione perché in campo sono fortissimi io mi andrei a prendere una bella shelly non dico niente non dico niente però e niente oggi si gioca con i giocatori tremolanti vabbè attenzione attenzione perché possiamo ucciderlo sparalo che l'uccidi porca troia abbiamo vinto sì andiamo a vincere anche questo secondo round anche se io da lontano cazzo non riesco a fare niente a meno che non attivo il gadget nuovo sprecato il potenziamento non ci volevo questo vabbè l'importante essere rimasti vivi attiviamo overdrive così andiamo ucciderlo sì abbiamo vinto la partita prossimo evento ricercati ricercati non è facile come evento quindi non so più chi scegliere come brawler non so chi sceglierle sceglierei emz così a caso è allora già cominciamo malissimo vediamo se riusciamo ad ucciderlo li mancava un cazzo di colpo mi mancava un cazzo di colpo l'ho ucciso l'ho ucciso cazzo ok 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 allora ho la stella blu anche quindi dobbiamo proteggerci ancora di più vediamo se riusciamo ad uccidere qualcuno per guadagnare qualche altra stella in più vediamo se riusciamo a fa no cazzo ok ok la stella blu l'abbiamo recuperata però attenzione attenzione perché questi qua non scherzano e non sono nemmeno tanto forti perché guardate cosa combinano ok 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 venite qui venite qua dentro cazzo quella testa di minchia che ha lanciato vabbè nessun panico nessun panico dai che è morto ok siamo 16 stelle su 20 quindi la partita in teoria la dovremmo vincere senza nessun problema io non so chi sparare se a quel coglione di merda o quest'orso del cazzo ok abbiamo vinto questa è la cosa importante non so come tra l'altro non abbiamo vinto abbiamo scelto di noi ci abbiamo scelto ci è uscito di nuovo k o come evento andrò a prendere proprio colt dai mi ispira colt anche uno dei miei brawler preferiti colt dell'inizio del gioco allora vediamo qua perché lo uccidiamo subito uno lo uccidiamo su me sono morto pure io questi sono i rischi questi sono i rischi di scegliere un brawler che non usi da tanto tempo comunque siamo in vantaggio 2 a 1 c21 nel senso che noi siamo due loro sono solo uno quindi possiamo ucciderlo in teoria in teoria ok l'abbiamo fatto andiamo a vincere anche questo round e portarci a casa questa partita attenzione da dove cazzo è uscito quello incredibile non ci voleva questa attenzione 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 ancora nostra ancora nostra ce la possiamo fare ce la possiamo fare vediamo se qua dentro questo se n'è andato porca puttana non ha mancomira non ha non ci resta che ucciderla e abbiamo vinto anche questa partita footbrawl attenzione perché è una delle mie modalità preferite questa footbrawl mi prenderei bull oh mio dio contro chi siamo capitati non ci voleva questa squadra siamo tutti da vicino e certo il robottino attenzione perché sono tutti più forti di me qua quelli da vicino e mi sa che questa partita non riusciremo a vincere mi sa proprio di no è dura qua è dura qua volevi che rimanevo lì volevi cazzo da dove sei uscito tu ho vinto io contro barrido non c'è nessuno non c'è nessuno ovviamente io da solo non riesco a fare chissà cosa palla agli avversari da quel che vedo attenzione qua i fai di sti coglioni pure che esce senti robotino del cazzo tornate da dove sei venuto va vaffanculo va andiamo a prendere sta palla andiamo a fare gol per favore perché già mi sono rotto i coglioni di questi qua io domani è festa lo sai che domani è festa se riusciamo a spazzare via sta palla oppure ad andarcene è un bel favore che ci fai vediamo se l'uccido almeno questo almeno questo attenzione perché posso provare il super tiro uno a zero per noi finalmente non c'era nemmeno bisogno il super tiro però vabbè la super la facciamo subito l'importante è che prendiamo sta palla cerchiamo di andare ad attaccare grande 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 robottino grande robottino perché la partita la stavano per vincere ho segnato lo stesso in qualche modo vabbè partita vinta rapina come evento rapina ci dobbiamo anche proteggere da vicino ma anche da lontano quindi eh quindi scegliamo bud quello non è che è proprio un brawler shelly dai shelly allora dobbiamo andare ad attaccare inutile che stiamo in difesa perché non facciamo niente cominciano porca troia a distruggerci la cassa dobbiamo andare ad attaccare immediatamente perché siamo sotto e non di poco io comincio a distruggerli cose da qui ovviamente i danni che gli ho fatti io non sono paragonabili a quelli che loro ci hanno fatto a noi in tre vaffanculo tu è l'over drive di sto cazzo coglione di merda porca troia questa è una squadra ben fatta è una squadra ben fatta è inutile è inutile perché questa partita non potevamo mai vingerla mai dominio attenzione perché dominio è un bel evento anche dobbiamo riprenderci la vittoria con shelly eccoli là già sono andati laddrentro loro ovviamente quelli già sparano a cazzo io sono un brawler da vicino loro sono tutti e tre da lontano e ora ci fanno un culo così attenzione perché ammazzano pure loro dall'altra parte ci ammazzano a noi anche porca troia è impossibile questa partita così ma siamo tutti fuori vabbè proprio così hanno già conquistato mezzo coso ma porca troia è impossibile una cosa del genere è impossibile devo trovare una soluzione se li sparo tipo ok 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 attenzione attenzione perché una volta che noi riusciamo a fare una cosa del genere loro sono un po' anche fottuti no dobbiamo stare dentro quei cerchi noi dobbiamo stare là dentro noi eh andateci per favore andateci per favore guarda quest'altro coglione abbiamo vinto sofferta questa partita raga io non lo so 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 mi prendo colt 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 a caso così perché non c'era tempo allora allora se cominciamo così allora ci stanno attaccando come se non ci fossero domani questa cosa non va bene non va bene per niente perché ora rischiamo di andare sotto ecco qua questi sono dolori sono dolori forti questi è recuperabile sta cosa qua adesso eh le ho fatte qualche danno niente di così grave tutta in mano a loro la partita mi sono sacrificato per salvare un po' la cassa ma vince chi è più bravo porca troia l'ho ucciso ma non ho fatto nessun danno questa è una cosa non bellissima ma porca puttana dai che cazzo ho fatto state dormendo cazzo cioè non è possibile che ogni volta facciamo un evento tu che vuoi sparare da vicino accomodati pure che cazzo ti devo dire vaffanculo va ormai abbiamo perso è inutile pure che stiamo qui a sperare metto anche l'overdrive come già detto è inutile sperare anche inutile anche solo pensarci di poter vincere 9 a 42 che cazzo vuoi vincere più 8 secondi rimanenti a meno che non ti metti il turbo nel culo e corri verso la cassa a distruggere tutto ma 9 a 21 non l'abbiamo perso nemmeno per tantissimo perché stavamo recuperando alla fine se ci fosse stato più tempo magari la classifica attuale è questa siamo quasi al bronzo 3 quasi manca ancora un po' comunque continuiamo il nostro evento con footbrawl questa volta mi prendo Shelly con footbrawl porca troia non cominciamo proprio nel momento migliore proprio già ci hanno fatto gol porca di quella troia già ci hanno fatto gol cominciamo già con il cazzo nel culo cominciamo oh my god andate a segnare andate a segnare non vi farei ma porca puttana certo che i miei compagni proprio che mi capitano sono i migliori del mondo questo è il gioco soprattutto